Jasmine Carrisi, la figlia di Albano e Loredana Lecciso, si trova in Australia in una città davvero incredibile dove arte, natura, cultura e intrattenimento si fondono. Ecco il posto da lei scelto. Jasmine Carrisi, è la giovane erede del cantante di Cellino San Marco Albano e la sua seconda compagna, la showgirl Loredana Lecciso. La primogenita della coppia ha ereditato la voce dal padre e infatti canta, e viene ospitata spesso in diversi programmi televisivi, e la bellezza da sua madre. Intelligenza. Caparbietà e tanta voglia di mettersi in gioco, fanno della giovane una promessa dell'intrattenimento italiano. E a proposito di intrattenimento, il suo personale, in questi giorni, è davvero spettacolare. La figlia d'arte in base a una sua storia Instagram delle scorse ore, si trova in una delle città più belle dell'Australia dove arte, natura, cultura ed eventi pazzeschi si fondono, Sydney. Sydney, è una delle città più iconiche dell'Australia e del mondo intero. Questa metropoli è famosa per la sua bellezza naturale, il suo stile di vita all'aria aperta e la sua diversità culturale. L'iconica Sydney Opera House, è una delle strutture architettoniche più riconoscibili al mondo, situata sullo splendido porto della località, con il meraviglioso Sydney Harbour Bridge che si staglia sullo sfondo. Le spiagge, come Bondi Beach, sono rinomate per la loro sabbia dorata e le onde perfette per il surf. La costa è punteggiata di baie nascoste, isole e promontori con vedute mozzafiato. Australia. Jasmine Carrisi è a Sydney. Perché vale la pena visitare questa città? La città di Sydney, è famosa anche per il suo stile di vita all'aperto. Grazie al clima temperato e alla natura incontaminata, gli abitanti godono di numerose opportunità per attività all'aria aperta. Il già citato Sydney Harbour, è un punto di ritrovo per la vela, il kayak e altre attività acquatiche, mentre i parchi cittadini come il Royal Botanic Garden, offrono spazi verdi per picnic e jogging. Il costante richiamo dell'oceano incoraggia gli abitanti a condurre un'esistenza attiva e sana. Inoltre, siamo di fronte a una zona incredibilmente multiculturale. Le sue strade sono animate da una varietà di usanze, cucine e tradizioni provenienti da tutto il mondo. I quartieri come Chinatown, Little Italy e la comunità aborigena rafforzano l'identità diversificata della città. Questa differenza si riflette nella gastronomia di Sydney, che offre una straordinaria gamma di piatti internazionali. Infine, Sydney, è il principale centro finanziario e commerciale dell'Australia. Il quartiere centrale degli affari, è sede di numerose imprese multinazionali e istituzioni finanziarie di rilievo. La città è anche un'importante hub culturale, con una scena artistica e musicale vivace. Teatri, gallerie d'arte e musei offrono un'ampia gamma di esperienze. In definitiva, Jasmine Carrisi ha scelto bene la sua meta, un misto perfetto di tutto ciò che si possa desiderare da una località.